Pasquale Menchise è nato a Genzano di Lucania, dove risiede con la moglie e due figli, Lenia e Joseph. Ha cominciato ad esprimersi musicalmente all'età di otto anni, quando ha chiesto ai genitori l'acquisto di uno strumento musicale, per la verità non subito accettato, che però arriva dai suoi risparmi giornalieri. Successivamente prosegue gli studi al Liceo Scientifico di Genzano e presso il Conservatorio di Potenza, con grandi sacrifici, in quanto per quattro giorni a settimana usciva di casa alle otto e rientrava alle 19.30, tra liceo, viaggio in pulmano, treno per Potenza e lezione in conservatorio. Quando poi arrivano gli studi universitari, sposta anche quelli musicali in zone ed ambienti molto più avanti da un punto di vista delle conoscenze. In questi anni studia Bologna, Firenze, Bari, Fermo, Pescara e soprattutto Vienna, che diviene una sorta di seconda patria. Nel 1985 gli viene l'idea di fondare un'orchestra in Basilicata, fino a quel momento priva di questo organismo e con altri amici di Potenza e Matera crea un'associazione orchestra da camera lucana, con l'intento di fare delle produzioni musicali e divulgarle nell'intera regione. La sua esperienza è notevole, ha composto per la radio e per la televisione sia musica sacra che per accompagnare spettacoli di vario genere. Scrive arrangiamenti e orchestrazioni per orchestra e per diversi organici, ultimamente le musiche originali per il film muto restaurato, malombra, tante le direzioni di orchestra in tutto il mondo, di teatri, festival e denti e innumerevoli i premi ricevuti e le collaborazioni con artisti di fama internazionale. Viaggia molto ma torna sempre nella sua amata Basilicata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.